Trasferta palermitana per l'assessore Domenico Fontana e il dirigente Gaetano Greco, i quali hanno incontrato l'ingegnere Luigi Bonuso della Ingegneria Ambientale, autore del piano rifiuti attualmente in esercizio e soprattutto attualmente al lavoro del nuovo piano pluriennale che l'amministrazione conta di presentare in consiglio comunale verosimilmente tra dicembre e gennaio prossimi. In particolare a Bonuso sono stati chiesti piccoli correttivi soprattutto rispetto alla gestione della raccolta differenziata che pare potranno essere inserite in tempi relativamente rapidi. È evidente che l'incontro comunque non sia servito solo a parlare del futuro ma anche per discutere del passato e in particolare del bando affidato a maggio. Bonuso a quanto pare avrebbe confermato le posizioni fin qui sostenute anche durante gli incontri svoltisi in prefettura anche rispetto al fatto che nel bando si ragioni in termini di numero di ore di servizio svolto e non strettamente di numero di lavoratori da assumere. Intanto il municipio avrebbe versato alle aziende solo la somma necessaria per il pagamento del personale in attesa che le stesse forniscano delle fatture dettagliate del servizio prestato. Rimane drammaticamente attuale il nodo connesso ai licenziamenti con i netturbini che continuano la loro protesta dinanzi al palazzo dei giganti in silenzio. Una presenza che a quanto pare comincia a provocare qualche nervosismo al secondo piano del municipio. Intanto è accertato che i licenziamenti pienamente operativi non saranno 21, bensì 14. Sempre in tema di numeri ad oggi pare siano utilizzati 114 lavoratori contro i 121 previsti dal bando e stando a quanto riferito dai sindacati si attendono ancora chiarimenti rispetto ai pensionamenti previsti.